Si diventa genitori affidatari innanzitutto partendo da una scelta, da un progetto di vita che vada in questa direzione e formalmente si diventa genitori affidatari presentando questa disponibilità al centro affidi che si farà poi carico della dichiarazione di disponibilità e attiverà una serie di interventi di valutazione cercando anche di comprendere le motivazioni, gli obiettivi, il significato che la coppia può avere rispetto a questo tipo di avventura da intraprendere. Sono già 29 le famiglie nell'Aretino che hanno deciso di intraprendere il percorso dell'affido familiare, 25 nel comune di Arezzo e d'altre 4 in provincia. Gli affidi familiari sono stati già oggetto di un protocollo di intesa siglato nel dicembre 2015 dall'amministrazione comunale e dalla rete di associazioni Affidar che a distanza di due anni hanno fatto un primo bilancio sulla situazione. Sono bambini che sono già nati, che possono essere nati in questo territorio o altrove, di fronte alla vita però che si esprime non c'è necessità di fare altre valutazioni. Sono bambini che rischiano di andare in mezzo a una strada e che se anche la vogliamo guardare da un punto di vista razionale sono bambini che potrebbero essere degli adulti con grandi problematiche. Quindi arrivare prima e arrivare meglio è un diritto ma è anche un fatto di intelligenza istituzionale. Ci crediamo, funziona, è una buona cosa e credo che se anche a volte va di moda l'idea di un diritto diverso noi invece riteniamo che il diritto giusto sia questo. Faremo il protocollo ormai a dicembre perché scade a dicembre, lo rifaremo per tre anni di in modo che chiudiamo insieme al primo mandato Ghinelli ed è evidente che quello che puntiamo è quello di aumentare il numero di famiglie disponibili all'affidio. La rete Affidar nasce nel 2013 proprio per promuovere e sensibilizzare la comunità all'istituto dell'affidamento familiare collaborando con il centro affidi di Arezzo. I bambini che hanno bisogno di questo tipo di intervento vuol dire che vivono in una situazione dove la famiglia naturale o ha delle difficoltà oggettive o per difficoltà, per incapacità legate a sufficienti competenze di tipo educativo ed affettivo necessitano di un percorso di protezione e di tutela per essere accompagnati nella crescita ed è evidente che il primo intervento è quello di garantire dei genitori.